Nulla, ma proprio nulla lasciato al caso. Il nuovo reparto di ginecologia e ostetricia del di Venere di Bari, appena inaugurato, mette al centro la donna e l'esperienza della nascita. Un ambiente accogliente dunque che predispone tutto per la nascita dei bimbi. Comodità, comfort, collaborazione donna-ostetrica, rapporto rinnovato medico-ostetrica e soprattutto sempre più sale travaglio-parto, a discapito di sale operatorie. L'obiettivo infatti è quello di ridurre i parti cesarei, assistere più parti spontanei, allontanando anche la tendenza dell'ultimo ventennio a ricercare i rischi della gravidanza perdendo di vista l'evento nella sua naturalezza. Il rinnovato blocco travaglio-parto ha proprio l'aspetto di una casa da parto. Vuole riportare al di fuori di tutti gli interventi di medicalizzazione e spinta che sono avvenuti negli anni passati, circa nel ventennio precedente, vuole riportare l'evento nascita al massimo della naturalità e al massimo della sicurezza. Via dunque attrezzature da sala operatoria che incutono ansia e tensione e ok a letti tondi, spalliere svedesi, palloni, vasche per il parto in acqua, sgabelli e sedie da parto, colori caldi e rilassanti e arredo confortevole, come si addice ad una vera casa del parto.